clamoroso a torino clamoroso clamoroso vista come si era messa la partita alla fine un punto d'oro perché l'inter pareggia al 93esimo e quel punto magari chissà potrà anche pesare a fine campionato lo vedremo perché comunque hanno sempre una paura in meno uscire sconfitti la cosa sarebbe un po' più diversa l'inter ha creato tanto e per quello che ha creato e per i miracoli che ha fatto Berisha sicuramente magari a livello di occasioni il pareggio poteva anche essere meritato però ragazzi miei cioè nel 2022 non puoi non vedere un calcio di rigore netto su Belotti ora io non voglio far polemica infatti non sono uno che comunque fa mai polemiche io dico sempre le cose come stanno infatti anzi io non sono uno che vede la malafede perché purtroppo c'è tanta gente che siccome sono juventino la malafede la fa contro la mia squadra quindi lasciamo stare infatti non do la colpa all'inter non voglio neanche pensare male sull'inter io mi rivolgo mi rivolgo direttamente a Guida Guida come fai a non dare il rigore nel 2022 sacro santo così su Belotti nel primo tempo come fai che poi attenzione i rigori vanno trasformati magari poi che adesso magari poi andando ce la para e non se ne fa nulla alla fine alla fine come si dice rimaneva di così la cosa no i rigori vanno anche fatti però dallo tanto tu dallo il rigore tu dallo il rigore poi vediamo perché se poi comunque mettiamo in caso il torino va su 2 a 0 parliamo in un'altra partita parleremo di un'altra partita va detto ragazzi va detto purtroppo questo va detto scandaloso scandaloso rigore in un altro torino scandaloso nel 2022 per il resto comunque un torino che come sempre si dimostra una squadra ostica una squadra che mette in difficoltà tutte le squadre un torino che parte subito forte con Belotti nel primo tempo con un tiro di Mancino sull'esterno della rete poi arriva il gol su calcio d'angolo in qualche modo povega lasciato da solo riesce a toccare per Bremer che poi fa il gol da solo anche lui quindi lì la difesa dell'inter un po messa male e nel finale arriva anche quel tiro di mandragora dove praticamente apparece di tanto così ci sarà anche un altro tiro di Belotti se non sbaglio forte ma centrale dove Andanovic riesce a respingere anche l'inter crea anche l'inter crea questo va detto ha avuto l'occasione con Eddie Dzeko dove si gira col mancino tirato e Beriscia l'ha fatta sua tra l'altro Beriscia miracoloso questa sera Beriscia ha sostituito da Milinkovic Savic direi più che dignitosamente più che dignitosamente vabbè non so neanche più parlare comunque ci siamo capiti l'ha sospito comunque più che dignitosamente ecco e oltre comunque la parata su Dzeko poi fa la parata sul colpo di testa di Toro Martinez che lì ha un riflesso assurdo perché dicevano a Logru era un tiro poi a Toro Martinez ci mette la testa e fa una parata assurda il calcio di punizione dicevano a Logru è un cross ma poi alla fine diventa un tiro perché nessuno la tocca o forse la sfiora a malapena Ranocchia lui se la vede così all'ultimo anche lì fa un paratone dalla donna quindi anche l'inter ha creato però ripeto poi c'è quel contatto lì dove si vede che Ranocchia prende il pallone ma prima di prendere il pallone ragazzi prende completamente lo scarpino di Belotti completamente completamente l'abito la portata anche non l'avrò visto ma c'è il VAR il VAR l'avrà segnalato quel contatto perché il VAR perché l'arbitro guida non è andato al check a vedere al VAR perché perché io questo mi devo spiegare perché ripeto io fossi la lega degli arbitri la lega sospenderei guida per un po' lo sospenderei perché deve essere sospeso un arbitro che fa un errore del genere nel secondo tempo la partita è abbastanza equilibrata c'è da dire che l'inter ha creato forse qualcosina in più del Torino però anche Torino le sue occasioni le ha avute attenzione l'inter sicuramente ha creato tanto ha cambiato tanto di Marco Vidal ha messo anche Correa li ha buttati un po' dentro tutti no di Marco che ha avuto l'occasione su una bellissima palla di Dzeko che tira col destro però Berisha riesce a pararla mi ricordo comunque anche lo stesso Dzeko che si gira un colpo di testa e non inquadra la porta che da lì di solito Dzeko la inquadra anche verso il finale prima del gol di Sanchez Dzeko salta e prende il tempo su di tutti a tu per tu con Berisha davanti alla porta e non riesce a far gol da lì Dzeko uno come lui ci ci aspetti un gol da lì e poi comunque arriva il gol molto bello a noi di Marco che trova palla imbucata per Dzeko Dzeko di prima intenzione dalla palla a Sanchez con il destro tira angola bene Berisha tocca col piede ma non quel che basta per far sì che faccia la parata infatti la palla una volta che va toccata col piede si infila comunque in porta forse prende anche un pezzo di palo e poi comunque va a infilarsi in porta giustamente giustamente sì però Berisha ha fatto tanti miracoli tanti tanti il Torino d'altro canto comunque non è stato a guardare perché anche l'azione dove Bregolo scarta tutta la difesa scarta anche Andanovic e tira botta sicura se lì non è per Gosens che comunque fa una parata attenzione poi c'è stato anche comunque il calcio d'angolo e il colpo di testa di Izzo dove Izzo fa un bellissimo colpo di testa e lì Andanovic vola e fa una grandissima parata va detto perché va detto anche quello ragazzi e nel finale anche su un contropiede dove l'Inter era sbilanciata perché appunto doveva almeno cercare il pareggio c'è stato quel bellissimo assist di Bregolo per Pobega Pobega da solo anche lui schiaccia il polone di testa e si mangia un mezzo gol pure Pobega quindi le azioni non sono mancate né da una parte né dall'altra sembrava una parità molto tirata invece è stata una parità molto bella e di calcio assolutamente sì molto divertente perché di calcio se ne è visto però ripeto per quello che si è visto in campo a livello di azioni e di giocate forse il pareggio è anche giusto però manca un rigore al Torino ragazzi prendiamoci in giro manca un rigore al Torino eclatante anche comunque Gossens ha avuto un'occasione su un'uscita vuoto di Berisha che era fuori dalla porta poi Gossens ha provato ha visto la porta vuota ha provato a tirare la sparata alta però ci ha provato anche Bregolo ci ha provato un tiro a giro interessante dove Andanovic si distende e la para poi viene segnato fuori gioco perché nel tiro di Bregolo scattano due gioco due del Torino in fuorigioco però le azioni ci sono state sia da una parte che dall'altra la partita è stata molto bella e che dire comunque adesso l'Inter prendendo quel punto che comunque è sempre un punto perché come se la messa è buono invece che prende N0 ha comunque perso terreno comunque perso terreno perché comunque ha perso due punti il Milan guadagna terreno il Napoli guadagna terreno quindi è una lotta a scudetto interessante veramente molto molto interessante molto bella comunque molto molto bella niente ragazzi idea che il video può finire qua quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate qui sotto nei commenti fatemi sapere voi appunto cosa ne pensate di questa partita tra Torino e Inter e soprattutto ragazzi anche se vi fa piaceremo quando iscrivetevi al canale che è importantissimo non costa nulla proprio tanto basta fare clicca su iscriviti se siete iscritti se ne costa nulla mi serve un casino e se lo fate vi ringrazio di cuore condividete il video con i vostri e anche loro e a te dare le notifiche così non per i vostri video passate sulla link ed iscriviti anche dal bar di i vostri channel e al link da maglia qui dobbiamo creare tutto bella